Buonasera, mezzanotte e 32 minuti, ultima edizione del nostro telegiornale. In questo periodo ci sono proprio le navi nel destino del nostro paese, non solo quelle delle ONG ma anche quelle da crociera. Impressionanti le immagini della tragedia sfiorata questa pomeriggio a Venezia con una nave della costa crociere che a causa del forte maltempo con grandine burrasca sulla laguna ha perso il controllo e ha rischiato di abbattersi sulla banchina di riva dei Sette Martiri non distante da San Marco con la prua che si dirigeva pericolosamente verso uno yacht che si trovava ormeggiato solo all'ultimo momento dopo che i passeggeri dello yacht erano fuggiti, terrorizzati, i rimorchiatori sono riusciti ad evitare l'impatto della costa deliziosa. Il ministro Toninelli ha già predisposto un'ispezione per ricostruire l'accaduto. E ora le navi della ONG a partire dall'Alancurdi che ha avuto via libera per far scendere a Malta i 65 migranti che aveva a bordo consigliandoli alla Marina Militare Maltese. Dopo ore di stallo si conclude con il via libera all'attracco e lo sbarco in terra maltese dei 65 migranti a bordo della nave Alancurdi della ONG tedesca CIAI. L'ok da parte delle autorità di Malta è arrivato dopo ore di tensione e continui appelli dell'organizzazione umanitaria che lamentava malori tra i migranti a bordo a causa del gran caldo. Ce l'abbiamo fatta nonostante una grande resistenza, una soluzione è stata trovata e i naufraghi vengono portati in un luogo sicuro. Sono tempi difficili ma noi continueremo a salvare vite, scrive CIAI. Il disco verde allo sbarco da parte delle autorità maltesi è arrivato ad una precisa condizione. I migranti, una volta alla Valletta, saranno redistribuiti in altri paesi dell'Unione Europea. Di tutt'altro tenore la vicenda del veliero Alex. Dopo aver forzato il blocco imposto dal Viminale e portato in salvo i 46 migranti a Lampedusa, il braccio di ferro tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e la ONG Mediterranea si trasferisce in procura. Salvini voleva il nostro scalpo, accusa Erasmo Palazzotto, capo missione di Mediterranea. e parlamentare di sinistra italiana, indagato insieme al capitano di Alex, Tommaso Stella. Per entrambi le ipotesi di reato sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rifiuto di obbedienza e resistenza o violenza contro nave da guerra. La questione ai migranti non ha fatto che acuire lo scontro fra Lega e 5 Stelle e non solo. La coabitazione è già attesa ma il tema migranti accende scintille in casa giallo-verde o meglio le accende Salvini che accusa i ministri Trenta e Tria e gli alleati di averlo lasciato solo. Ma gli amici nemici grillini reagiscono. Maglio Di Stefano, il sottosegretario agli esteri pentastellato, dice Caro Salvini, se ti senti come Maradona ma giochi come Higuain fuori forma è un problema. Offendi i colleghi, vuoi fare tutto da solo, non passi mai palla. È chiaro che alla porta non ci arrivi. Salvini rilancia Di Stefano un ignorante, andasse in Venezuela e allude al trascorso promaduro del 5 Stelle. Poi in serata ammorbidisce, non ce l'ho con Di Maio, con lui sto lavorando bene eppure Di Maio che si era spalmato sulla linea leghista di scontro con le ONG si tiene fuori dalla bagarre. Ma la palla non rimane solo nel campo giallo-verde, il PD tenta la rincorsa e prova a uscire dal gioco degli autogol avviato con le frecciate di Renzi alla gestione Minniti. Zingaretti invita la squadra DEM a tirare in campo avversario. Questo governo ha sbagliato tutto, dice, sull'immigrazione ha fatto un disastro, un disastro umano. Poi gli sbarchi continuano, siamo isolati in Europa. Meno male che c'è David Sassoli che viene dal PD e che presiede il nuovo Europarlamento. Sarà lui a porre il tema di Dublino. Ora tocca a noi, spera Zingaretti, sempre che Salvini non gli occupi tutto il campo. Parliamo delle elezioni in Grecia con il centrodestra di Nea Democrazia che vince e che potrà contare sulla maggioranza assoluta in Parlamento. La destra stravince in Grecia e si chiude l'era Tsipras. Kiriakos Mitsotakis, leader del centrodestra di Nuova Democrazia, ha vinto le elezioni politiche promettendo meno tasse e salari più alti. Vittoria Netta che corre sul 40% e garantisce la maggioranza assoluta al partito conservatore. Lo stesso che era al governo quando esplose la catastrofica crisi finanziaria e poi sociale da cui il paese sta uscendo grazie ai sacrifici del popolo greco e al lavoro di Alexis Tsipras. La sua formazione di sinistra, Siriza, va sul 30%, i socialisti sull'otto, i comunisti al 5,5%, i nazionalisti al 4%. Bene anche DiEM25 che con il suo 3,5% fa entrare in Parlamento l'ex ministro Yanis Varoufaki. Niente da fare per i neonazisti di Alba Dorata, rimangono fuori. Tsipras ha atteso che i voti conteggiati fossero almeno la metà, poi ha telefonato a Mitsotakis per congratularsi. Il vincitore, economista 51enne, è l'erede di una dinastia di politici e ha conquistato la fiducia delle classi medio-alte da sempre ostili a Tsipras. Lo sconfitto. Siriza ha pagato un prezzo alto per le scelte difficili messe in campo per cambiare il paese, dice i giornalisti. La Grecia in effetti è stata traghettata fuori dalla tempesta economica, ma la fine della crisi non viene ancora avvertita da molti greci. Anche per questo l'opposizione di centrodestra oggi si è presa la sua rivincita. E andiamo in Iran ora perché è scaduto l'ultimato di 60 giorni dato all'Europa. Teheran ha annunciato oggi che porterà l'arricchimento dell'uranio al 5%, oltre alla soglia quindi del 3,67 come previsto dagli accordi internazionali. Da quegli accordi il presidente Trump si era sfilato lo scorso anno, infliggendo nuove sanzioni economiche a Teheran. Sanzioni che ha twittato stasera il segretario di Stato americano Pompeo, ora aumenteranno. L'Europa si è detto molto preoccupata per lo sforamento della soglia, che va ricordato e comunque ben lontana da quella necessaria per realizzare l'arma nucleare. Il ministro degli esteri iraniano Zarif ha però annunciato con un tweet la decisione è reversibile, dipende da voi. La risposta di Trump poco fa, meglio che l'Iran stia attento. Per il calcio il Brasile ha vinto la Coppa America battendo in finale 3-1 il Peru. Da noi invece è stata la giornata di Antonio Conte. Sette anni dopo, di nuovo insieme, Antonio Conte e Beppe Marotta. E fin dalla sua prima uscita in nerazzurro davanti alle telecamere, il tecnico mostra assoluta fedeltà alla linea. Su Icardi e Nainggolan seguo i dettami della società, ma è di obiettivi che era molto importante parlare oggi. Io sono una persona che comunque non si pone limiti. Non si pone limiti e non voglio che altri si pongano dei limiti o dei freni a inizio stagione. Anche perché dovessi pormi dei limiti io, creerei subito degli alibi in tutto l'ambiente. In serata l'arrivo a Lugano, sede del primo raduno della nuova Inter, Icardi e Nainggolan compresi. Conte guarda al Napoli ed è proprio la squadra di Ancelotti a fare notizia. Dapprima per le voci sempre più insistenti di un interessamento per Icardi, con l'aggiunta di una proposta cinematografica di De Laurentiis per la moglie Wanda. Sempre oggi sembrano calare le possibilità di vedere all'ombra del Vesuvio Cames Rodriguez. A tentarlo è l'Atletico Madrid che investirebbe il ricavato dell'accessione al Barcellona di Griezmann, circa 120 milioni. Sono invece le ricche sirene cinesi a dividere Mourinho ed El Sharawi. Lo Special One ha rifiutato un'offerta del Guangzhou Evergrande, 100 milioni in tre stagioni, che è facile definire faraonica. E invece il faraone ha deciso di lasciare Trigori a destinazione lo Shenhua di Shanghai, per 16 milioni più bonus. Le ragazze degli Stati Uniti hanno vinto il Mondiale di Calcio, battendo in finale l'Olanda per 2 a 0. È stata Megan Rapinoe, il capitano degli USA, che contesta apertamente la politica del Presidente Trump, a sbloccare il risultato su rigore. Il raddoppio invece è grazie alla Lavel in una gara, ma è in dubbio per le americane il quarto titolo in otto edizioni, in cui hanno centrato anche un secondo e tre terzi posti. E prima di chiudere parliamo di un grande evento sportivo che si è disputato oggi, la Maratona ciclistica delle Dolomiti. Grande perché, pensate, alla 33esima edizione hanno partecipato più di 9 mila persone, di cui la metà stranieri, provenienti da ogni parte del mondo. Uno scenario meraviglioso in Valbadia, attraverso i passi Pordoi e Falzarego. Tre partecipanti, Dorotea Wider, Sofia Goggia, Manuela Mölge, Cristian Ghedin, il motociclista Carlos Ceca e Alex Zanardi. Era l'ultima nota per quanto riguarda il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento.